Buongiorno e benvenuti alla seconda giornata del convegno Fortuna del Barocco in Italia, le grandi mostre del Novecento. Abbiamo una giornata intensa e quindi cercheremo di, con i relatori discussant, cercheremo di tenere i tempi. La prima sezione prevede gli interventi di Francesco Frangi e Alessandro Morandotti sul tema Milano e Genova Pittrici, mostre e studi del Novecento. Brevemente, Francesco Frangi insegna storia dell'arte moderna all'Università di Pavia. Nel corso dei suoi studi si è occupato di temi di cultura artistica dell'Italia settentrionale dal Cinquecento al Settecento. Alessandro Morandotti, dal 2011, è docente di storia dell'arte moderna all'Università di Torino. I suoi interessi di studioso vertono la storia dell'arte italiana tra manierismo e neoclassicismo, soprattutto nell'Italia settentrionale. Grazie e buon lavoro. Ecco, occupiamo l'intero tavolo come fossero i due rami del Parlamento, di quale camera non vogliamo dirlo, e ci alterneremo al microfono durante l'esposizione. La nostra idea è di provare a giocare un'indagine parallela su due centri artistici in stretto dialogo in diversi momenti della storia della produzione artistica e tanto più nel corso del Seicento. Quello che ci interessa verificare è se, a diverse altezze cronologiche nel corso del Novecento, esiste una sfasatura o un allineamento tra lo stato degli studi in volume o in risvista e i risultati offerti dalle occasioni espositive e dai relativi cataloghi. Al contempo, ed è la seconda faccia della stessa medaglia, ci interessa valutare se coloro che guidano gli studi sono anche quelli chiamati a curare le mostre. Una verifica che potrebbe essere estesa ad altre realtà geografiche. Questo esercizio vede come nascosto protagonista Roberto Longhi, uno dei primi esploratori consapevoli del Seicento, tanto più nell'Italia nord-occidentale, percorsa fin dagli anni della formazione palmo a palmo. Diciamo nascosto perché Longhi non ha mai veramente reso sistematico le sue conoscenze maturate attraverso i viaggi tra Piemonte, Lombardia e Liguria, oltre che nelle città di tutta Europa dove ci fossero musei, sebbene tra le pieghe della sua bibliografia, e di molte note a lungo rimaste in forma manoscritta, emergano spie della sua estrema confidenza con molte vicende dell'arte ligure e lombarda per ogni tratto cronologico dal Medioevo al Settecento. Ci siamo resi conto che per lo studioso Milano e Genova, per evocare i centri emblematici di quelle civiltà figurative, erano città gemellate e bisognava studiarne i fatti artistici in perfetto parallelo per capire di più e meglio fatti relativi a ciascuna scuola. Ed è proprio così che bisognerebbe ancora fare. Diciamo subito che ci interessa qui indagare la storia delle arti a Genova e a Milano tra tardo manierismo ed età barocca, tra primo Seicento e primo Settecento, senza affrontare capitoli di una storia in cui Longhi fu invece dichiarato e ben visibile protagonista degli studi come dei fatti espositivi, e proprio a Milano, con la mostra dedicata in un caso ad esplorare l'interesse per la pittura della realtà di una compagine di artisti attivi principalmente tra Bergamo e Brescia, da Moroni a Ceruti, come recita emblematicamente il saggio introduttivo del catalogo firmato dello studioso, o, nel secondo caso, con la grande mostra dedicata a Caravaggio nel 1951. Sono episodi ben studiati ed estranei in gran parte all'idea del nostro racconto che seleziona brutalmente tra la ricchezza degli argomenti, privilegiando solo alcuni aspetti di questa storia, quella in cui le tangenze tra Genova e Milano sono più evidenti, specie nella prima metà del Seicento. Inoltre va detto che analizzeremo studi e mostre fino ai primi anni del Novecento, quando protagonista diventa la nostra generazione. Ad esordio di questa storia si tratta di capire cosa avviene subito prima e subito dopo la grande mostra sul Seicento italiano svoltasi a Firenze nel 1922, iniziativa che, come è ben noto, apre veramente la fase contemporanea degli studi sul Seicento italiano, presentando al pubblico circa 1300 dipinti provenienti da tutte le parti d'Italia, tanto da sbigottire nelle parole dello stesso Longhi. Longhi partecipa ai lavori per una seconda edizione del catalogo, resa si necessaria per i numerosi sfalli attributivi, ma in seguito prende le distanze dall'ipertrofico comitato organizzativo, con il protervo Ugo Ietti tra i primi, che non sempre ne aveva seguito i consigli o li aveva accettati tiepidamente, e per questo pubblicherà qualche anno dopo le sue note in margine al catalogo del 1922, dove ribadisce certe proprie idee attributive accolte nel catalogo e certe altre non accettate, nonostante gli avvertimenti. Il San Sebastiano, curato dai reni da un angelo della collezione Achillito Chiesa di Milano, l'unica opera in mostra a documentare il talento di Tanzio da Varallo, vi giungeva, grazie a una segnalazione di Longhi, al quale si doveva, fin dal 1916, la precisazione attributiva a favore del pittore Lombardo, negli anni delle più fervide avventure critiche caravaggesche. Fino a quella data il dipinto, in cui Tanzio si confronta in modo molto spettacolare e personale con Gentileschi e Baglione, circolava con il nome inverosimile di Rubens, forse in ragione del cromatismo così acceso. Sempre in occasione della mostra del 1922, lo studioso riassegna a Francesco Cairo le due celebri erodiadi di Torino e di Vicenza, opere che costituiranno, qualche decennio dopo, la miccia di un famoso saggio di Giovanni Testori, pubblicato sulle pagine delle prime annate di Paragone. Longhi ha la convinzione, che è anche la nostra, che l'idea di un artista così come di una scuola è strettamente legata alla bonifica del catalogo delle opere che gli appartengono. Le precisazioni attributive non sono quindi mai esercizi esibizionistici fini a se stessi. Alla mostra del 1922 c'era almeno un cruciale dipinto genovese che attestava le idee attributive di Longhi. Il riposo durante la fuga in Egitto di Andrea Ansaldo, reso noto dallo studioso nel 1917, che vedete qui al centro. A Longhi quel breve articolo serve innanzitutto per rimarcare la fisionomia della scuola pittorica genovese ad apertura del Seicento e al contempo assegnare la frattura tra Cinquecento e Seicento intorno proprio al nome di Ansaldo. In una monografia su Genova scritta da Wilhelm Suida nel 1909, dove veniva tracciata una storia delle arti molto chiara e sintetica, anche se non troppo giudicante, Ansaldo è rappresentato in qualità di decoratore ad affresco, erede della tradizione cinquecentesca che da Perino si innesta sui nomi di Luca Cambiaso e Giovanni Battista Castello Bergamasco. Longhi, senza dimenticare il debito di Ansaldo, decoratore ad affresco con quella tradizione più antica, aveva idee diverse e complementari insieme. E il dipinto della Galleria Barberini gli serviva a far capire la frattura della nuova generazione di artisti, lontani dalle cubature cambiasesche e dai suoi toni cromatici smorzati, ma attenti piuttosto alla vitale restituzione di figure vive dalle carni rorrate dal sangue. I rossi preziosi innanzitutto e lo sguardo moderno sul paesaggio naturale colpiscono certo nel quadro dell'Ansaldo. Longhi al contempo definisce una precisa genealogia per l'avvio della scuola genovese del Seicento, e cito dal suo articolo sull'Ansaldo, i lasciti di Baroccio e di Vanni ai genovesi, lasciti di conchiglie iridate in gamme fredde e pretese veneziane ad opera di Toscani e di Liguri, di Paggi e di Passignano, e i nuovi ritorni della gamma baroccesca con le lettere da Milano, dei Procaccini e dei Crespi, fino all'irrompere caldo e pieno della gamma lombarda nel carovaggio riformato di Gentileschi e del Sarzana e dei nuovi standardi estivi di Pietro Paolo Rubens. Cosa dire di meglio e di più? A documentare questa nuova temperia in cui nasce l'Ansaldo, ci illuminano le parole di Longhi, poste qui a ideale confronto nella diapositiva, con quelle di uno dei grandi protagonisti, diverse decine di anni dopo, degli studi sul Seicento genovese, Gianvittorio Castelnovi. Longhi, con le sue parole, pensava forse al ritratto della moglie di Rubens, eseguito dal pittore poco dopo Il ritorno dall'Italia, senza rimanere influenzato dal fatto che Cambiaso doveva avere eseguito un'opera di analogo soggetto, oggi documentata solo da un disegno, a lungo passato sotto il nome di Cambiaso, che vedete sulla sinistra, e oggi assegnato appunto a Giovanni Battista Paggi. I rapporti compositivi non sono mai anche rapporti di stile. Lo doveva sapere molto bene Roberto Longhi, nel momento in cui, tra le righe di un suo testo rimasto a lungo in forma manoscritta, restituisce le scelte di stile di Bernardo Strozzi, uno dei primi pittori genovesi del Seicento, ad essere studiato e celebrato in esposizioni pubbliche, come ci ricorda anche questa immagine di una sala della mostra del 1922, dove Strozzi era stato protagonista come molti altri pittori di tocco virtuoso, amati dalla cultura del tempo, secondo quanto ha ammirabilmente restituito Fernando Mazzocca in un suo scritto dedicato al clima critico in cui nacque la mostra fiorentina. Nello scherzo letterario destinato a restituire le sue note attributive sulle opere del Seicento e del Settecento, presenti nelle collezioni della residenza di Pommersfelden, visitata intorno agli anni Venti, Longhi, con il pretesto di ricordare la presenza in quell'antica galleria tedesca di opere molto tardi dello Strozzi, ne qualifica i fatti salienti della formazione. E cito da questo testo pubblicato negli anni Cinquanta. Esce lo Strozzi dai più arguti tra i manieristi quali furono i settari del Baroccio del grido d'un Vanni e d'un Salimbene e dai milanesi benaffetti del Mazzola siccome i Cerani e i Procaccini. Da loro asserva per gran tratto di sua vita quei toni franchi, agri talvolta, quasi tratti da succhi d'erbe comunissimi ai genovesi. Basterebbe pensare ad alcuni capolavori giovanili del pittore quali il Compianto sul Corpo di Cristo dell'Accademia Ligustica o la Carità di Palazzo Rosso che vi faccio vedere per capire cosa aveva in mente Longhi. Il clima in cui si forma Strozzi è lì definito come meglio non si potrebbe fare e il nome di Cambiaso fra i padri nobili di quel momento della pittura a Genova e per lo stesso Strozzi che pure certi confronti compositivi ma non di stile potrebbero evocare come vediamo come vediamo in questo confronto non è mai speso da lunghi come presto invece sarebbe stato fatto in modo roboante nella prima mostra pubblica dedicata al 600 genovese quella organizzata dalla loro direttore dei musei civici Orlando Grosso nel 1938 ma prima di spostarci nelle sale della mostra del 1938 seguiamo ancora le idee di Longhi seguiamo ancora le idee di Longhi il quale nel suo saggio del 1926 su Gioacchino Assereto pittore genovese attento alla lezione dei Lombardi definisce ancora le parentele stilistiche di quelle due scuole ad apertura del 600 seguendo le vite di Raffaello Soprani che indica Assereto scolaro del Borzone e dell'Ansaldo per Longhi e cito il Borzone e l'Ansaldo sono di fatti insieme con lo strozzi dei primi anni quali che siano le interpretazioni dei moderni gli amici milanesi intendendo con essi i Procaccini il Cerano e il Morazzone e l'Assereto sta in questa stessa temperie e a commento del martirio di San Bartolomeo dell'Accademia Ligustica di Assereto che vedete qui nella diapositiva Longhi lo definisce e cito di nuovo ammirevole di violenza demoniaca come un Morazzone o un Cerano oppure ancora costipato come tutti i quadri milanesi e tenendo in mente questo quadro di Assereto quando seguirete la relazione di Frangi capirete quanto Longhi avesse ragione a confrontare questo quadro con quelli dei pittori milanesi citati Longhi peraltro ha chiaro che andando avanti negli anni Assereto matura una sensibilità naturalistica che lo lega ad Orazio De Ferrari e dà vita a una corrente vitale all'interno della pittura genovese alla quale si contrappone quella più propriamente barocca gli studi di Longhi non fanno troppa breccia visto che la sala di apertura della mostra curata da Orlando Grosso nel 1938 sulla pittura genovese del Seicento era dedicata a Luca Cambiaso il Michelangelo Eunuco in un'altra inventiva critica un po' ingenerosa dello stesso Longhi sugli anni di Orlando Grosso a Genova e sui primi passi mossi da Caterina Marcenaro vera zarina dei musei civici genovesi a partire dal 1948 sono usciti da poco due libri molto ricchi di documentazione con un occhio specifico su problemi di museografia e museologia e diventerebbe difficile ripercorrere quegli anni senza tenere conto di tutte le novità che sono merse ma il tempo stringe conta però capire che Grosso giocava una partita da studioso in prima linea sugli studi del 600 fin dagli anni in cui era stato commissario per la Liguria alla mostra del 1922 ma la rassegna da lui curata è una carrellata a Genova nel 1938 è una carrellata di opere anche significative dove non emerge veramente cosa conta per cosa e chi conta per chi inoltre a contrasto con l'esaltazione di Cambiaso che risulta evidente dal brano dell'introduzione di Grosso che ho evidenziato nella diapositiva manca qualsiasi accenno al ruolo di Rubens e di Van Dyck clima da nazionalismo fascista naturalmente che non vede esente in quegli stessi anni lo stesso Longhi che non perde occasione di restituire valore autoctono alle esperienze dell'arte genovese confinando molto spesso la presenza dei fiamminghi a un incidente di percorso contro la sua stessa intelligenza visiva che aveva messo in luce nel 1917 il dialogo con Rubens de Lansaldo passano pochi anni e mentre il clima della guerra e del regime sembra subito spazzato via il soprintendente Antonio Morassi monta nel 1947 una straordinaria mostra sulla pittura del 600 e 700 a Genova che seguiva una sua analoga iniziativa del 1946 sulla pittura genovese dal 300 al 500 le movimentazioni per mettere in sicurezza le opere negli anni della guerra avevano favorito la tutela e al contempo la conoscenza del patrimonio Franco Boggero ha scritto pagine eloquenti su questo momento drammatico nei presupposti e felice negli esiti ricordandoci che Morassi teneva un taccuino chiamato emblematicamente giornale degli sgombri fin dalla sovraccoperta dell'agile catalogo il ruolo di Rubens e di Van Dyck in quel contesto è evidente la tela balbi di Van Dyck fruttifera per Valerio Castello Castiglione e Domenico Piola si accompagnava alle più importanti opere delle grandi collezioni aristocratiche genovesi e di Rubens erano persino esposte le due pale della chiesa del Gesù Morassi conoscitore fine della pittura immagina che la mostra che non ha un disegno critico preciso ma presenta il secolo e cito dalla sua introduzione deve considerarsi come un apporto alla costruzione critica della scuola pittorica genovese del 600 e del 700 quindi un punto di partenza per gli studi l'abilità diplomatica di Morassi tiene tutti insieme gli uomini della soprintendenza e quelli dell'ufficio belle arti del comune e accanto a lui lavorano per le ricerche bibliografiche e forse per le schede un giovane funzionario della sovrintendenza Gianvittorio Castelnovi e la zarina Caterina Marcenaro che si apprestava allora a salire al comando della direzione dei musei civici genovesi due protagonisti Castelnovi e la Marcenaro della stagione di mostri di studi sull'arte genovese del 600 tra gli anni 50 e gli anni 70 con quale distanza di risultati critici lo vedremo in parte dopo che Francesco Frangi ci racconterà quanto avviene in quegli stessi anni a Milano devo solo ricordare che proprio durante le visite alle mostre genovesi del 1938 e di quelle successive del 1946 e 1947 Roberto Longhi mette mano a un dossier Genova Pittrice che rimarrà a lungo manoscritto anche se noto ai suoi allievi fino alla pubblicazione nel 1979 dopo la sua morte spunto per il titolo della nostra relazione passo la parola a Francesco grazie grazie buongiorno a tutti allora così va bene come distanza inaugurati in modo non proprio trionfale dalla confusa monografia su Daniele Crespi di Giorgio Nicodemi data alle stampe nel 1914 gli studi novecenteschi sui protagonisti del Seicento Lombardo proseguirono con risultati in realtà ben più confortanti nel secondo quarto del secolo in modo del tutto imprevedibile direi a innescare la miccia fu il giovanissimo appena 23enne è una data che fa un'età che fa un po' impressione Nicolaus Pepsner l'eclettico allievo di Heinrich Wölfling che nel 1925 confezionò un corposo articolo di apertura dedicato a un articolo monografico dedicato a Cerano un articolo al quale farà seguire poi quattro anni più tardi nel 1929 un altro importante saggio dedicato a Giulio Cesare Procaccini da lì in avanti però la palla passerà quasi stabilmente agli studiosi lombardi da prima tra il 1530 e il 1533 con i sondaggi sulle vicende di Francesco Cairo e ancora di Procaccini di due studiose quasi altrettanto giovane di Pepsner cioè Stella Matalon e Fernanda Wittgens poi con il costante parallelo impegno in questo ambito di ricerche di Gianalberto dell'Acqua e di un autodidatta poliedrico come Costantino Baroni due convinti cultori dell'arte rombarda ai quali si devono tra gli anni 30 e 40 del novecento ovviamente ulteriori contributi in cui si precisavano alcuni momenti della carriera di Cerano e si avviava questo nel caso dell'Acqua e nel caso di Baroni si avviava una più affidabile ricognizione delle parabole di Morazzone e di Carlo Francesco Nuvolone in una singolare e per certi aspetti istruggente memoria autobiografica scritta nel 1947 ma resa nota solo nel 57 un anno dopo la morte Baroni dichiarava morte precoce ovviamente Baroni dichiarava di avere in serbo scusate studi rivelatori su Tanzio da Varallo Daniele Crespi e Filippo Abbiati tutte ricerche rimaste in realtà nel suo cassetto stipato di progetti di ricerca e dietro le quali stava forse come ispiratore Roberto Longhi che come noto aveva trovato in Baroni un'efficace sponda milanese già a partire dai primi anni 40 del 900 cioè dai tempi della famosa conferenza su Carlo Bracesco a Milano appunto 1942 di fatto se gli studi rivelatori di Baroni non troveranno la luce saranno proprio due longhiani di fede comprovata a farsi originali interpreti subito dopo della passione per questi temi del grande studioso mi riferisco ovviamente a Mina Gregori e Giovanni Testori che sulle pagine delle prime annate di Paragone tra il 50 e il 54 se però dar vita a ricerche ancora oggi imprescindibili come quelle dedicate rispettivamente ai ricordi figurativi di Alessandro Manzoni al genovese ma diciamo così cremonese di adozione Luigi Miradori il genovesino e a Francesco Cairo primi due contributi di Mina Gregori il secondo il terzo ovviamente di Giovanni Testori dalla monografia di Daniele Crespi di Nicodemi 1914 erano passati 40 anni sul piano della lucidità della maturità di analisi il divario tra quei due momenti della storiografia è tuttavia incommensurabile e fa capire come sia stato probabilmente un bene il fatto che l'esordio sul terreno espositivo del Seicento Lombardo sia avvenuto solo in seguito a questo progresso radicale degli studi un esordio che viene a cadere proprio a ridosso degli articoli appena ricordati di Paragone all'Orchetto Testori allestì in Palazzo Madama a Torino e al centro Olivetti di Ivrea nel 1955 la mostra del manierismo piemontese e lombardo del Seicento di cui vediamo la copertina appunto considerato il luogo il ruolo in qualche modo fondativo di questo avvenimento nella storia che qui interessa da ripercorrere vale la pena soffermarsi sulla mostra del 1955 con una certa attenzione che rendono le prerogative di fondo e le scelte a partire da quelle relative al titolo della rassegna non privo di qualche tratto di ambiguità per così dire mi riferisco in particolare a quel doppio riferimento regionale alla Lombardia al Piemonte che rischia di chiare degli equivoci circa l'autentico assetto della mostra all'interno della quale il Piemonte entrava in gioco in realtà in modo del tutto parziale non il Piemonte Sabaudo cioè ma solo o quasi quello delle attuali province orientali della regione tra il Novarese e la Valsesia province che nel 600 però sappiamo erano ricomprese entro i confini dello Stato e anche della arcigliocesi milanese l'evocazione di quell'ambito geografico così esteso rappresentava dunque una forzatura in un certo senso che nell'ottica di testori trovava però una giustificazione profonda nel ruolo di iniziatore e di culla per usare un termine testoriano della civiltà figurativa del 600 Lombardo da lui riconosciuto al vercellese Gaudenzio Ferrari giusto l'artista che l'anno successivo sarebbe stato celebrato dalla grande mostra del museo Borgogna quanto poi all'utilizzo fin nel titolo del termine manierismo è chiaro che esso sanciva il pieno accoglimento di quelle affinità profonde tra i primi protagonisti della tradizione pittorica del 600 in Lombardia e gli esponenti di punta del tardo manierismo internazionale proposta 30 anni prima dallo stesso Longhi un'affinità ribadita più riprese nelle pagine del testo introduttivo del catalogo della mostra del 55 all'interno del quale la cifra stilistica della scuola lombarda veniva di conseguenza individuata proprio nella devozione verso l'eredità gaudenziana incarnata soprattutto dallo spettacolare cantiere del sacramonte di Varallo e nella propensione però a drammatizzare quell'eredità utilizzando la grammatica sovraecitata del manierismo tardivo e nord-europeo tra Cornelis Van Arlem Bartolomeo Spranger e Jacques Belange scendendo più nel concreto gli attori attorno a cui si articolava l'esposizione erano otto indicati fino alla copertina del catalogo Moncalvo Cerano Morazzone Giulio Cesare Procaccini Tanzio Davarallo Daniele Crespi Francesco Cairo e Carlo Francesco Nuvolone l'orizzonte cronologico si fermava di fatto intorno alla metà del secolo e anche all'interno di quel segmento limitato le preferenze erano chiare oltre che apertamente enunciate il vero marchio identitario dei Lombardi era riconosciuto nella loro vocazione per un registro espressivo cupo visionario evocato da testori con iperbole critiche e letture immaginifiche che lasceranno il segno alle pale di Cerano interpretate come cito inni e gemiti catastrofici rispondeva all'indole volitiva dei Davide di Tanzio celebrati sempre con parole di testori come pastori implacabili e disperati mentre a chiudere la storia non poteva che essere la poesia definita nera e tragica del giovane Cairo e delle sue erodiadi nessuna concessione invece agli svolgimenti più decorativi e sontuosamente barocchi del Cairo maturo una rinuncia motivata in modo esplicito dal desiderio che il visitatore uscisse dalla mostra senza distrazioni conservando nei propri occhi cito ancora testori un'immagine precisa anche se univoca precisa anche se univoca di quale fu il senso della storia figurativa che si voleva raccontare la scelta sollecitata più che altro da ragioni organizzative di articolare la rassegna quasi solo attraverso opere di piccolo formato nulla toglieva insomma il tono perentorio dell'indirizzo critico maturato da testori in sostanza quello che sarà il canone del seicento lombardo sul quale insisterà con superiore impiego di mezzi e anche di spazi ovviamente 18 anni più tardi nel 1973 la rassegna di Palazzo Reale a Milano già risulta definito nel 1955 e come è inevitabile si tratta di un canone che comporta rinunce e sbilanciamenti chi non rientra o non corrisponde totalmente al disegno critico della mostra ne esce un po' con le ossa rotte come accadde nel 1955 a Daniele Crespi la cui opera vediamo qui evocata dall'annunciazione di Aix-en-Provence come accade a Daniele Crespi e alla sua pittura affabile e colta evocata nella rassegna solo da tre esemplari subito schiacciati nella sequenza del catalogo dalle 13 opere che documentavano i primi anni di attività appunto neri e tragici del giovane Cairo che si trattasse di scelte in buona parte condivise tra gli studiosi che con maggiori motivazioni si cimentavano in quegli anni sui medesimi temi lo dimostrerà il seguito immediato della fortuna espositiva dei Lombardi secenteschi scandita tra il 59 e il 64 da tre spettacolari mostre monografiche che puntavano lo sguardo proprio su altrettanti indiscussi alfieri della rassegna del 55 alla mostra su Tanzio allestita ancora da testori e ancora a Palazzo Madama nel 1959 seguì l'iniziativa dedicata a Morazzone nelle sale di Villa Mirabello a Varese sotto la guida di Mina Gregori e con l'appoggio appassionato di Roberto Longhi autore del testo introduttivo e presente come vedete con compiaciuta soddisfazione alla inaugurazione della mostra chiude il trittico la rassegna su Cerano al Borletto di Novara sotto la regia di uno studioso di diversa formazione come Marco Rosci allievo a Milano di Paolo Dancona e di Anna Maria Brizio e già da qualche tempo accostatosi a questi studi in stretto dialogo peraltro proprio con Testori e la Gregori analizzate nel loro complesso queste tre mostre stupiscono ancora oggi per la loro coerenza ideativa l'impegno profuso da storici dell'arte e organizzatori l'entusiasmo mai ottusamente campanilistico che accompagnò gli eventi basti pensare in proposito alla mole di intuizioni informazioni riversate nei tre cataloghi strumenti ancora oggi indispensabili per chi si occupi di questi argomenti oppure indirizzando lo sguardo su altre questioni alla vasta eco pubblica delle rassegne esemplificata dal corposo volume di rassegna stampa che raccoglie le recensioni alla mostra morazzoniana appunto Varese 1962 per non dire della capacità di superare ogni ostacolo al fine di garantire la piena riuscita dell'itinerario espositivo al punto di arrivare a rompere la pavimentazione circostante il broletto di Novara per far entrare nelle sue sale i quadroni di San Carlo del Cerano colpisce anche il sentimento di profonda condivisione di un unico coerente progetto critico che ispira e tiene unite le tre rassegne al di là delle differenti sensibilità dei curatori e che quella unità di intenti per così dire non fosse episodica lo farà capire il successivo capitolo della nostra storia la famosa mostra appunto sul 600 Lombardo allestita a Palazzo Reale a Milano nel 73 con lo scopo di celebrare per la prima volta nella capitale dell'antico stato spagnolo e nella capitale anche della Arcigiocesi i suoi pittori il gruppo di lavoro chiamato a realizzare il progetto vedeva infatti in prima linea proprio la Gregori Testori e Roshi coordinati da Gianalberto dell'Acqua ormai da tempo a capo della sovrintendenza milanese già annunciata da Longhi la mostra del 73 come nel 1962 già annunciata da Longhi sostanzialmente nell'introduzione al catalogo della mostra di Morazzone appunto 62 come un evento da tempo allo studio la mostra di Palazzo Reale si fece evidentemente attendere più del previsto i suoi legami con le esperienze di studio avviate negli anni 50 risultano tuttavia evidentissimi e a garantire questa continuità a quanto pare di capire contribuì soprattutto testori che nel saggio introduttivo sul primo dei tre volumi del catalogo non mancò di dare ragione delle scelte della rassegna prendendosene implicitamente le responsabilità che quelle scelte gli appartenessero lo conferma del resto la loro coerenza con gli orientamenti della mostra del 1955 di Palazzo Madama rispetto alla quale l'iniziativa di Palazzo Reale si propone in fondo come una replica spettacolare e amplificata uguale la chiusura del racconto in prossimità della metà del seicento uguale il carattere fortemente orientato del taglio critico ora sostanziato però da uno sguardo più meditato in un certo senso frutto anche del contributo della Gregoria di Roshi sul contesto storico religioso entro il quale i pittori lombardi si mossero ciò che ne consegue è la definitiva saldatura nell'interpretazione di questa stagione figurativa tra i toni tesi lugubri degli artisti lombardi e il mito di Carlo Borromeo tra la violenza immaginifica delle opere specialmente quelle di Cerano mi sono dimenticato di andare avanti con un slide dicevo la saldatura tra la violenza immaginifica delle opere specialmente quelle di Cerano Morazzone e Tanzio e l'eco della peste del 1576 77 la peste di San Carlo appunto rievocata da quei pittori in immagini di rara intensità un'epidemia che in qualche modo diventa la grande protagonista della mostra del 73 lungo una traiettoria che senza soluzione di continuità come se il contagio non avesse mai finito di fare vittime e di infondere terrore arriva fino all'altra peste quella di Federico Borromeo e di Manzoni del 1630 nonostante il suo assetto corale e il profilo istituzionale garantito anche dalla sede e dall'impegno diciamo così profondo profuso dalla sovrintendenza il Seicento Lombardo non è dunque una mostra di ricognizione territoriale non ha alcuna ambizione di illustrare le diverse anime i differenti contesti di committenza le oscillazioni culturali di un intero secolo d'arte in Lombardia la scultura e l'architettura sono quasi completamente assenti è ancora una volta in sostanza una mostra fortemente selettiva una mostra saggio che come quella del 55 non teme di operare censure perfino spiazzanti ne sono un esempio le modalità con cui viene rappresentata nelle sale di Palazzo Reale la figura di Carlo Francesco Nuvolone l'artista attivo nei decenni centrali del Seicento capace di distillare nelle sue opere migliori vere delizie sentimentali e coloristiche nelle quali è davvero difficile percepire un nesso di continuità con le atmosfere tetrae dei pittori della generazione precedente ebbene nella mostra del 73 Nuvolone pittore tra l'altro tra i più prolifici dell'intero Seicento italiano prende parte quasi in chiusura della rassegna solo con tre opere che non a caso sono tre ritratti una tipologia di dipinti nella quale inevitabilmente il carattere sensuale e vaporoso della sua pittura si rivela solo in minima parte come a dire che lo spettacolo della peste non poteva finire in modo dolce e spensierato tra le favole mitologiche e le tenere allegorie di Carlo Francesco sul tipo di questa malinconica carità l'accenno di testori in chiusura del saggio del catalogo alla bambagia nuvolognana è un'altra citazione ovviamente evocata come inadeguata prosecuzione del teatro macabro ed eroico dei pittori borromaici lascia intendere con quanta diffidenza si guardasse in quel momento a questo slittamento in chiave più distesa e colloquiale della scuola locale quanto basta per capire come riguardo al complessivo disegno e soprattutto alle conseguenze della mostra del 73 ci sia bisogno di un supplemento di riflessioni di riflessione prima del quale però può essere utile tornare a seguire le vicende contemporanee degli studi e delle mostre genovesi corriamo adesso un po' velocemente per finire la nostra molto lento il cambio di diapositiva tra il 1948 e il 1971 Genova vuole dire soprattutto Caterina Marcenaro direttrice di ferro in quelle date dei musei civici della città al centro di molti studi anche recenti tra il volume sulla Genova di Angelo Costa e la monografia su di lei scritta da Raffaella Fontana Rossa la Marcenaro sembrava finalmente la persona giusta per offrire sponda alle intuizioni di Roberto Longhi suo compagno alla scuola di perfezionamento di Roma e interlocutore costante della signora le collaborazioni della Marcenaro alla rivista di Longhi Paragone il sostegno dello studioso alle sue iniziative museografiche spesso criticate le scoperte di Longhi a Genova favorite dal rapporto preferenziale con la Marcenaro che ne richiedeva costantemente il parere e tutti ricorderemo almeno la scoperta da parte dello studioso del Lecce Omo di Caravaggio nei musei di Palazzo Bianco sembravano favorire un ruolo di Longhi a Genova che in realtà non ci sarà mai veramente neppure nelle iniziative della Marcenaro Longhi temeva di non potere guidare veramente quella signora di Ferro e lo si capisce quando declina l'invito a partecipare al comitato scientifico della mostra su Luca Cambiaso del 1956 Cambiaso una sua bestia nera perché era nell'aria l'idea di inserire opere di Caravaggio tra quelle che segnavano il seguito del pittore genovese non si poteva fare si arriva alla mostra sul barocco genovese del 1969 Marcenaro è per così dire in uno splendido isolamento al suo fianco ha solo Angelo Costa presidente degli industriali genovesi e la sua collezione ma nel frattempo si è operata una frattura con la sovrintendenza retta allora da Castelnovi e la direttrice lavora in autarchia i dipinti esposti dice la Marcenaro nella sua introduzione sono 148 dei quali 68 inediti e tutti reperiti in collezioni comunali e private nella cinta daziaria di Genova le lacune sono inevitabili ma evitabili sarebbero gli sfalli attributivi i giudizi critici affrettati la mancanza di un racconto ordinato e di una consapevolezza dei valori e delle connessioni tra i diversi artisti e le diverse opere Roberto Longhi il cui nome compare nel comitato esecutivo della mostra era lontano e già malato e si affretta a restituire giudizi molto netti e taglienti e quasi sempre pertinenti sulle opere esposte che gli sono presentate in fotografia da Ida Maria Botto prima che la mostra inauguri una sua anticalieva la Botto e allora collaboratrice a Genova della Marcenaro nessuno dei pareri di Longhi commenti su cui ha scritto un saggio molto bello Anna Orlando nel libro dedicato ad Angelo Costa viene tenuto in considerazione per ragioni che ci sfuggono e la mostra è un vero fallimento critico in una recensione molto ampia e davvero puntuale uscita nel settembre 1970 sul Burlington Magazine Andreina Griseri che era da tempo interessata ai rapporti tra Torino e Genova dimostra una conoscenza della Genova pittrice molto più aggiornata di quella che era emersa dalla mostra del 1969 che le permette correzioni attributive e critiche molto puntuali il respiro corto non solo della mostra ma anche del testo introduttivo della Marcenaro non permette di fare emergere gli sguardi oltre le proprie mura di molti genovesi la temperia in cui matura lo stile di Castiglione tra Pussain Pietro Testa e il clima neoveneziano della Roma degli anni 30 lo sguardo verso la Roma di Bernini della generazione di artisti attivi nella seconda metà del 600 tra Gaulli Domenico Piola e Gregorio De Ferrari problemi questi ora evocati su cui Longhi aveva scritto note infallibili negli appunti per la Genova pittrice immaginando in margine alle sue considerazioni sulla mostra del 1938 che tra l'altro sarebbe stato bello vedere in quella mostra come non si era visto Gregorio De Ferrari con un quadro degno di lui come la morte di Santa Scolastica che indica Longhi mi piacerebbe vedere esposta accanto alla Santa Teresa di Bernini un sogno difficilmente realizzato quanto Longhi fosse estraneo alla costruzione della mostra emerge tra l'altro dalla definizione critica di Strozi continuamente definito pittore caravaggesco nelle schede come nel testo introduttivo della Marcenaro magari per l'equivoco di considerare le similitudini compositive di alcuni suoi quadri con quelli di Caravaggio due mondi però sul fronte dello stile come ci fanno vedere queste due immagini una delle quali quella dello Strozi si riferisce a una bellissima opera esposta nel 1969 a rimarcare la distanza tra i risultati critici della mostra e il mondo degli studi più aggiornati poco tempo dopo la mostra del 1969 nel 1971 esce un volume a più mani scritto da studiosi attivi tra la sovrintendenza Torriti Castelnovi e l'università Ezia Gavazza a quel punto la lucida sintesi dei diversi interventi con i necessari distinguo che non è qui il momento di avanzare rimette le cose al posto e le conoscenze costituiscono un terreno solido su cui crescono approfondimenti di studio e di sintesi ma anche mostre fatte molto bene con molte voci e titoli qui restituiti in questo rapido specchietto e quasi sempre a queste mostre lavorano gli studiosi più aggiornati ma mi interessa ora concludere questa disamina parlando di un altro nascosto protagonista degli studi che da un altro fronte della ricerca quella degli studi sul mecenatismo e il collezionismo ha permesso di documentare certe linee dello sviluppo della pittura genovese del 600 che Longhi era riuscito a delineare sulla base di intuizioni stilistiche si deve infatti a uno storico della letteratura Giorgio Fulco la riscoperta degli inventari della collezione di Giovan Carlo Doria forse uno dei più grandi mecenati e collezionisti del nord Italia all'aprirsi del 600 e basterebbe pensare da chi si fa ritrarlo in margine ai suoi studi su Giovan Battista Marino il letterato a lungo in relazione con il Doria Fulco ha rintracciato una serie di inventari che testimoniano le vicende della raccolta nelle diverse fasi della sua crescita tra il 1610 e il 1625 anno della morte del collezionista emerge in quei documenti dettagliatissimi anche nella specifica dei nomi degli artisti quasi sempre indicati una straordinaria aderenza ai fatti nuovi della storia dell'arte tra Lombardia Liguria la Toscana il Viceregno e guardando fuori dall'Italia la Francia e le Fiandre il profilo di quella raccolta ha cominciato a prendere corpo sulla base delle ricerche di Fulco generesamente condivise a partire dalla fine degli anni 70 con molti storici dell'arte che avevano seguito le sue conferenze mai date alle stampe che avevano approfittato delle sue informazioni e dei suoi generosissimi consigli chi ricorda la sala di apertura dedicata alla storia delle collezioni genovesi del primo seicento alla bella mostra su Van Dyck svoltasi a Genova nel 1997 deve sapere che molti dei capolavori di Simon Vuè Rubens Giulio Cesare Procaccini e Bernardo Strozzi li esposti non avrebbero recuperato la loro vera storia senza le ricerche pionieristiche e le informazioni dispensate da Fulco sulla collezione Doria abbiamo ormai un libro ben fatto di Viviana Farina ma conserva un documento inedito del lavoro minuzioso di Giorgio Fulco mai dato alle stampe che testimonia la sua intelligenza di metodo Fulco che capiva il valore della datazione dei diversi inventari della raccolta Doria anche per le informazioni che potevano restituire sull'attività degli artisti viventi di cui Doria era molto spesso committente aveva formato un dizionario degli artisti documentati nei tre diversi inventari da lui riscoperti documenti ai quali lo studioso era riuscito a attribuire una datazione verosimile caso per caso inventario per inventario raccogliere le differenti descrizioni dei tre inventari in un ragionato compendio per autore capire da quale data certe opere certi artisti erano presenti negli inventari permetteva naturalmente di immaginare le date di ingresso in collezione di alcune opere di alcuni artisti favorendo peraltro considerazioni sulla cronologia interna all'attività di questi stessi maestri i fogli fittamente da tiloscritti che qui illustro due delle 64 pagine dell'indicizzazione per autore di Fulco sono particolarmente significativi per quanto abbiamo detto sino ad ora circa i rapporti fra Milano e Genova del lavoro di Fulco sugli inventari si è avvantaggiato tra gli altri Hugh Bridgestock in un importante articolo del 1989 dedicato a identificare le numerose opere di Giulio Cesare Procaccini presenti nella raccolta Doria articolo utile peraltro a rivedere completamente sulla base degli inventari di Doria la cronologia del pittore fino a quel momento poco assestata Procaccini è peraltro uno dei protagonisti della collezione visto che alla morte di Giovan Carlo Doria nel 1625 gli inventari di casa elencono oltre 60 dipinti del pittore ma erano poi anche molti altri amici milanesi dei ginovesi per riprendere la felice definizione di Longhi di quella congiuntura ad esservi documentati sappiamo già da Raffaello Soprani che Doria aveva nel suo palazzo un'accademia non formalizzata e ci immaginiamo che le opere della sua collezione fossero una guida per gli artisti locali negli anni della formazione forse a questo punto capiamo cosa avrà visto Bernardo Strozzi nei suoi anni giovanili qui un'opera di Procaccini e una molto giovanile di Strozzi entrambi documentate in casa Doria e potremmo definitivamente associare il suo nome a quello dei manieristi lombardi del 600 evitando così di evocare nel futuro delle ricerche il nome di Caravaggio a sproposito come era capitato in modo insensato almeno all'interno della mostra del 1969 ma non solo lì in verità Fulco permette documenti alla mano di radicare la convinzione che era già di Longhi che molti fatti salienti della pittura genovese d'inizio 600 dipendano strettamente dal dialogo tra Genova e Milano e in particolare guidino specie intorno alla figura di Giulio Cesare Procaccini la rilettura di Correggio che attraversa un certo 600 genovese quello meno naturalista naturalmente e che ha un'ideale genealogia che comprende innanzitutto Strozzi e in una continuità di lingua sorprendente che scavalla alla metà del secolo Valerio Castello Domenico Piola e la sua prolifica bottega fino a Gregorio De Ferrari incerto tra questa tradizione filolombarda nel senso ampio del termine in cui sta dentro anche Correggio e le novità di Roma che fin dagli anni di Castiglione presto di Gaulli e degli scultori berniniani attivi a Genova come Pierre Puget e Filippo Parodi costituiranno una nuova spinta di rinnovamento e su questa nota termine la parte genovese della nostra relazione ripasso la parola quindi a Francesco per la chiusura e vi ringrazio dell'attenzione e scusate la fretta la scelta fortemente orientata della mostra del 600 Lombardo del 73 fu certamente una scelta vincente nel momento in cui occorreva far conoscere a un pubblico ampio la complessiva parabola di una scuola pittorica che fino ad allora mai era stata in fondo celebrata in grande stile la decisione di agire con uno sguardo selettivo e di rinunciare a una ricognizione più ecumenica di tipo territoriale si rivelò azzeccata garantire la fortuna della mostra non fu ovviamente solo il carattere perentorio del suo disegno critico ma soprattutto il fatto che quel disegno coglieva perfettamente l'aspetto che più di ogni altro caratterizzava il 600 Lombardo lo coglieva e lo illustrava con una qualità interpretativa in grado di lasciare un segno profondo anche al di fuori della sfera degli studi peraltro a oltre 40 anni di distanza c'è però un aspetto della vicenda su cui come si diceva prima occorre ragionare e che ha a che fare proprio con l'efficacia della concezione della mostra del 73 e delle occasioni di ricerca che la precedettero il rischio delle mostre in qualche modo memorabili è quello di fare terra bruciata dopo di sé di diventare oggetti quasi intoccabili costringendo a ritenere che il loro racconto proprio perché è così suggestivo e potente sia l'unico in grado di restituire il senso del tema trattato in realtà come si è visto molto bene anche ieri non c'è costruzione storiografica che non sia rivedibile e che il discorso valga anche per il 600 Lombardo di Palazzo Reale e per gli studi coerenti che l'hanno preparato lo dimostra il caso di Giulio Cesare Procaccini artista appena evocato da Alessandro il sublime pittore di origine bolognese che fu uno dei tre fondatori della scuola milanese di primo 600 accanto a Morazzone e a Cerano a differenza dei suoi due compagni d'avventura Procaccini però è un pittore aggraziato e sontuoso capace di tenere insieme le delicatezze sentimentali di Correggio e le seduzioni materiche di Rubens tutte qualità che negli anni più intensi della riscoperta del 600 Lombardo li procurarono non pochi sguardi diffidenti già Roshi nel catalogo di Cerano del 64 avvertiva come quando si sarebbe fatta una mostra su Procaccini ci sarebbe resi conto cito dei suoi limiti di virtuosismo e di edonismo un'affermazione nella quale sembra insinuarsi un'allusione quasi moralistica motivata dalle straneità del pittore ai toni epici con i quali si esprimevano i suoi contemporanei Lombardi nel catalogo del 73 Testori con le qualità letterarie che gli erano proprie rincarerà la dose riconoscendo nelle preziosità materiche e sartoriali delle figure di Giulio Cesare una sorta di sberleffo al dramma esistenziale che attanagliava all'età dei Vescovi Borromeo altra citazione da Testori davanti appunto in commento alle opere di Procaccini e poi Sete Testori che scrive Sete aperita d'occhi estrusciamenti di carne a non finire bagliori fili di luce come se a quei tempi i milanesi vivessero pregassero s'ammalassero espirassero nell'oro anche quando cosa più che comune peste li coglieva Procaccini di cui sia Rosci che Testori percepiscono perfettamente peraltro la qualità non corrisponde insomma al canone ormai assestato del Seicento Lombardo canta fuori dal coro e non credo sia una coincidenza il fatto che né prima né dopo il 73 sia mai stata realizzata né in Lombardia né in Italia una mostra monografica sul pittore nel frattempo Cairo ha avuto nell'83 la sua impeccabile rassegna personale a Villa Mirabello a Varese mentre Cerano e Tanzio hanno beneficiato di una replica questa volta nelle sale milanesi di Palazzo Reale e tutto questo a dispetto del fatto che nell'intera compagine dei pittori del Seicento Lombardo Procaccini fosse stato l'unico a conquistarsi già nel corso del secolo in cui visse una consolidata fortuna collezionistica europea fortuna la quale farà naturale seguito a partire dall'Ottocento l'approdo dei suoi dipinti presso tutti o quasi i maggiori musei d'Europa ed oltreoceano la questione non è di poco conto anche perché porta con sé più di una ricaduta non si può fare infatti a meno di notare come la sottile ma precisa presa di distanza dal pittore ebbe come conseguenza quella di tenere in sordina innanzitutto una storia della quale Procaccini era stato un protagonista cruciale mi riferisco proprio ai rapporti tra Milano e Genova tra il Seicento Lombardo e quello genovese un sodalizio di stile nutrito da intrecci di committenza e di collezionismo che come abbiamo appena sentito da Alessandro trova nella prolungata attività di Giulio Cesare per Giovanni Carlo Doria il suo fondamentale momento d'avvio destinato a lasciare una traccia decisiva nella traiettoria delle due scuole pittoriche perché se è vero che molti genovesi della prima metà del secolo guardarono costantemente a Procaccini è altrettanto chiaro che le consuetudini con il capoluogo Ligure non verranno mai lasciate cadere dagli artisti lombardi anzi saranno proprio tali consuetudini a costituire il principale propellente della conversione in senso barocco e festosamente coloristico dei pittori di quella scuola lo documentano non solo gli esiti della maturità di Cairo a partire dagli anni 40 del seicento ma anche il contemporaneo fiorire vaporoso della bambagia nuvoloniana si tratta di un racconto che come si è detto la mostra del 73 tralascia e che a ben guardare ancora attende di essere evocato con l'ampiezza di respiro che meriterebbe nei decenni successivi alla mostra di Palazzo Reale non si può dire infatti che molto sia avvenuto per integrare questa lacuna per diradare il cono d'ombra che grava sulla pittura milanese di pieno seicento e quello ancora più consistente il cono d'ombra ancora più consistente che incombe sui fatti di fine secolo la sfida non era certo di quelle facili se si considera che occorreva confrontarsi appunto con la trascinante orchestrazione della rassegna milanese ma che quella sfida valesse e tuttora valga la pena raccoglierla possono farcelo capire alcuni indizi come quello fornito dal magnifico respiro intimista di sapore pre-romantico o per melodia quasi pre-scapigliatura che Carlo Francesco Nuvolone e Cairo degli anni maturi sanno infondere nelle loro figure quando sono più ispirati non era peraltro questo l'unico racconto alternativo su quale si sarebbe potuto puntare dopo il 1973 per cercare di variare e arricchire l'immagine del Seicento in Lombardia ce n'è infatti almeno un altro di profilo diverso ma di uguale ricchezza che ancora una volta trova significativamente in Giulio Cesare Procaccini un abbrivio determinante intendo alludere la costante fortuna goduta presso i pittori lombardi ma il discorso vale anche per molti loro colleghi genovesi dall'eredità e dai modelli di Correggio una storia giustamente molto cara ad Alessandro Morandotti e della quale era già ben consapevole Girolamo Borsieri che nel 1621 definiva Giulio Cesare Procaccini definiva Giulio Cesare Procaccini dicevo pratico delle maniere illustrate dal parmigiano e dal Correggio un'indicazione che trova una solare con ferma visiva tra le tante nel San Sebastiano del Museo de Bosar di Bruxelles solo un pittore pratico di Correggio poteva infatti concepire una scena di martirio come una variopinta adunata di angeli che non sanno bene se piangere o sorridere ma la vicenda non si esaurisce certo con Giulio Cesare riverberi puntuali della poetica degli affetti di Correggio e delle sue invenzioni si colgono infatti a più riprese nelle opere della maturità di Cairo e in quelle dei migliori esponenti della generazione dei pittori ormai attivi a cavallo tra 6 e 700 da Andrea Lanzani a Stefano Maria Legnani il Legnanino nei cui dipinti la devozione verso quei modelli si rivela perfino più clamorosa tanto da sembrare incomprensibile a chi non ne approfondisca le ragioni considerata l'estensione cronologica del fenomeno che valica diciamo così i confini del 600 l'occasione per farlo per approfondirne le ragioni avrebbe potuto essere in questo caso la mostra sul 700 Lombardo allestito sempre a Palazzo Reale nel 1991 che apriva il suo itinerario un po' intricato proprio sulla generazione degli artisti appena ricordati scegliendo tra l'altro come immagine simbolo della rassegna come copertina del catalogo un plateale omaggio a Correggio di Legnanino il sogno di San Giuseppe del Museo di Novara nonostante questa suggestione ci sto dentro me l'aspettavo nonostante questa suggestione l'occasione però nel caso della mostra appunto sul 700 Lombardo del 91 non fu colta e si mancò così di ricordare come per gli intenditori d'arte e per i pittori del 600 e del 700 Correggio era a tutti gli effetti il principe della scuola Lombarda per dirla con le parole eloquenti utilizzate nel 1705 dal torinese Alessandro Mari principe della scuola Lombarda in virtù del fatto spesso trascurato che nella toponomastica storico-artistica della Lombardia scusate che nella toponomastica storica-artistica del tempo la Lombardia e la sua scuola coprivano un orizzonte geografico che si estendeva da Milano a Bologna passando per i centri dell'Emilia collocati tra i due capoluoghi solo recuperando questa diversa geografia delle scuole e delle appartenenze culturali si riesce a capire per quale motivo in quello stesso 1705 si pensò bene di ideare un monumento dedicato al pittore Parmense collocato addirittura nel cuore di Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio ma è chiaro che la consapevolezza di questi fatti consente di fare luce anche su altri aspetti ben più rilevanti ci fa cioè capire come quella linea sentimentale che attraversa l'intero Seicento Lombardo sopravvivendo al ricordo delle pestilenze passate e al dramma di quelle presenti potesse contare su un padre nobile a cui riferirsi costantemente corregge appunto un bel tema attorno a cui pensare e allestire una mostra futura grazie 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 grazie